Si è una volta organizzata contatto. Dai di nuovo il mio numero e poi ti rincorri in ospedale. Fazzamente il sciopo no. Diglielo in calabrese perché lui non capisce. Manco io non capisco. Salute, recupera il potassio. Stai morendo? Stai morendo? E se muoio mi paga lui. Ti paga per nuovo.